Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultimo episodio della SOULING COO DI ASHI CHANNEL Bella ragazzi Ultimo episodio con lo shabarai Incredibile Siamo arrivati alla fine della Lega incredibilmente In niente Ci siamo Mamma mia la tensione è palpabile E' palpabile Attenzione e andiamo a vedere le nostre squadre con i miei due paralizzati Perfetto grande Prontissimi I nostri sono a posto devo dire Sì infatti Stanno lì Noi siamo a posto Perché Shai ha detto no ha ricaricato a te OP No no eh Io sono poveraccio uso le Iperpozioni Però mi sono dedicato a dire le cure totali Dai descrivo un po' la nostra bella squadretta Vai tu con la prima coppia Allora la prima coppia è Ricola Sono linkato con Tobscribe Poi abbiamo Augello Sono linkato con Il Dona Il Donatello Madonna mia il Don Grande Dona Poi abbiamo Muscolini Aggiunta di pochi episodi fa Esatto Sono linkato con Arma Parma Arma Parma No è Rocco Ah è Rocco Non sapete neanche se usate E' vero è Rocco è Rocco Poi abbiamo Kitaccia Kitaccia con setta Che sono linkato con chi? Con Arma Parma Con Arma Parma Ecco vedi con Arma Parma Lo ho fatto ai tentari Poi abbiamo Mr.Krab Lo sono linkato con Un bottega E poi Cavallino Lo sono linkato con Un buon vecchio Croissant Che non fa un cazzo Però è Golem Però è Golem È Firo Press Pass Ragazzi siete pronti? Andiamo? Far burdello Vai 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 Che brutto Il Fede Ehi Vediamo che ci dice Ero inseso di ripeterti Non vedi Ah shish Non mi ripeto di essere forte Per tenermi testa Allora nel Pokédex Ho cercato ovunque Pokémon 4 Minchia le Sizz Non solo Minchia le Sizz Minchia le Sizz Ho formato squadre che battessero Tutti i tipi di Pokémon E ora Eccomi Campione della Lega Pokémon Per due minuti E vaffanculo non ci puoi direcce Ce lo dico io Sono l'attore migliore del mondo Che babbo Però sta host è fantastica E' un po' nitricata Pigi Pigi Asi 61 però Porca torri a War Tartle Asi 61 War Torta Tuono Si Per forza Oh yeah baby One it KO One it KO E beh certo Riticata Bestia E' primo andato E' Shai Jamie Che cazzo C'è quanto non gli dotto dente Genomot Continua con No Bracere Ah Bracere Eh però con le otto No dai Facciamo Von di Rocco Si Von di Rocco Missy Speedo di Croissant Però non vuoi usarlo è vero Perché con le otto Guarda che brutto Sempre più brutto Rocco Nube Grande Augello Grande Augello E' volato in alto E' volatile Nuva Minchia che bello far Ma che benveno vota Ai bracini così E beh era Ci sta che non uscire No no ok Ma non mi toglie niente Guarda che c'è solo Nube Meno male Ok C'ha Nube Flash Splash Ricola sarà a livello 51 E crash Grande Ricola Ricola cerca di imparare Oh Sovereng Bello Ci piace Sovereng Fantastico Noi ne abbiamo uccisi due Jinx E' andare di terremoto con Batenga Perché no Da Crittone E' un crittone Guarda come è così Un baby Va bene va bene Allora Augello riceve un' esperienza Goldeen Se facessimo Sogni 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 Ignorante Ah no l'ha preso Dorme Mangia Mangia Mangiamo Grande Golding Golding Vai 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 Noi togli un cazzo e vai di terremoto Va bene Però dorme Quindi Non ci rompe le pallotte Le pallottole Crittalo in modo Signorile Vai Vabbè No Vabbè dorme Grande Uccello Uccello che non si confonde due volte di fila Uccello Top Ma è così Siamo tre eh Siamo a tre Sì Tre uccisi Già Allora Nidokin Che mosse aveva gelorancio Cioè lì c'ha Nidokin E' Nidokin E' Nidokin E' Nidokin Ma che brutto che è? Terremotato proprio Terremotato Terremotato Io ho un po' paura sinceramente Però Mr.Creddy E' Nidokin è un po' un problema mi sa Oh iè Leccata Ok ok va bene No paralizzato non mi fa parla Grande Mettia Dragonite Vai Mr.Creddy 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 Mi chiedi a togliere niente 63 eh 4x però Dai 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 Ah che figlio di fuori Mr.Creddy Mr.Creddy Non c'è confuso 4x Dai Gli togli almeno metà Nooo Stai così Che benunce che è D'unavello Grazie Grandi Dragonite 63 12 livelli sotto Cazzo Siamo i Sottorivellati a merda Facciamo l'ignoranzata Sottomissimo Articuno 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 Oddio Zio C'ho la focobomba C'ho la focobomba Aspetta Voglio aspettare Per l'ultimo pokemon Aspetta Ah così bro Aspetta Allora Il mio problema è che lui ha bollaraggio Lo so che ha bollaraggio Perché ce l'ha anche il mio Articuno Ok Però io ho un focobomba Sul mio Nidoquin Vero Ok Ehm E perché E perché mettendo cavallino Cavallino il più lento è paralizzato E quindi comunque mi fa bollaraggio Si Cavallino lascelo nella sua paralisi da Permanente Però mai Esattamente Ah cazzo cazzo c'ha un somerang Ehm C'è che c'è che c'è Ci provo io Vai Focobomba Dai Che volaraggio No No Non fai niente un cazzo eterro Oh Oh L'ha detto Ti prego fallo però Sì Non lo tira giù però No infatti Ok Era come un crit Ma mia Metto mister crab per forza Mi curi E poi mi curo Anzi Il zio bollaraggio almeno non mi fa niente Esatto Eh già Pian piano lo tira giù Rafforzatore Che cazzo è Che sbatti Vabbè io Mi sorrottino No lacerazione Non mi critare Non mi critare Era un crit Maddio Era un crit Vai 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 Era un crit Noo Ti salta Ma stai crit Io sottomissiono Speriamo bene Ehi continui a curarmi Fighe non mi crit Non mi Metta vita Fighe di cazzo Ok 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 va bene Se mi crita non ha un problema No No Ehi Vediamo Vediamo Sì Abbiamo sconfitto Banos Sì 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 Ok Allora mister crab C'è L'ha tirato giù C'è calzone la 51 Noi rimaniamo così Aspettate Scenzi 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 Mi ten culozzo No no Faccio volo E lo tiro giù O nel frattempo Ragazzi Iscrivetevi Tutti i social ragazzi Per questo puntato Cosa che fai io somerang Vedete Vai io somerang Vai Ha il suo perchè comunque Come mossa Ha il suo perchè Vai L'ho tirato crit Buonca troia Ma male Potrebbe No non lo uccide Doppio crit Doppio crit Doppio crit Incredibile Vedi sta per usare L'hectabuzz Ok Allora L'hectabuzz ha A tuono pugno Potrebbe essere più veloce Allora Vediamo cosa ho Ah beh in realtà è l'ultimo Tentalo Sennò fa un po' E' che E' che la mia squadra E' completamente debole A tipo elettro Ho Ricola Ma non avrà mai Perché non ha mossi tipo elettro Si che ce l'ha Io ce l'ha C'ho un pugno Magari Non fedegliela tolta Muova subito Potrei mettere di kitaccio Se no Allora Tenta prima O somerang Va bene Non si sa mai Esatto Somerang Mi ha chiamato a 5 Non c'è modo Che è più veloce Il tuo più crit di prima Ah mi salto tuono Sì Che crudo Ma io sto Omerang Ti raggiungo ti raggiungo Noo Noo Magari è solo crit No non può Non può Vabbè però sei sulla buona strada Vabbè Metto dentro kitaccia No ma lo curerà Metto dentro lo somerang No no Metti kitaccia Se non occorre il fatuono Ci muore anche il nostro subscribe Proprio all'ultimo No Vabbè vabbè Guardalo E' lì così E' lì cazzo duro E' lì che sembra Stefani Sembra Stefani Doppio ago Hatzinger Eh di sciotto Noo Noo Kitaccia Noo Sapevo che devo fare lo somerang Ok però io penso che il cavallino possa tenere qualsiasi colpo Mi chiede se vuoi un cavallino Ma il cavallino Muoiono tutti adesso Dai oh Gelo a pugno Ok tuono Tuono Non dovrebbe farli tanto Solo crita si Eh no c'è lo stabile Lo stabile Porca puttana E non è paralizzato Ti prego uccidilo Noo 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 Shai dio santo Lo curo di nuovo Ragazzi Like Per favore supporto Fuoco pugno ok Questo non metti da giù Questo non fa niente Sì ma un electabuzz competitivo Fede Porca troia Esatto Ok fai il nuovo fuoco pugno Ti prego Doppia sferla Va bene Va bene anche doppia sferla Basta che non ne fai cinque Basta che non ne fai cinque E basta che non ne fai cinque Se ne fa cinque Perfetto Oh Molto bene Sotto livellati Non puoi essere Mi hai sconfitto Dopo tanta fatica per diventare il campione della Lega Il mio regno è già ciunta alla fine È una domanda Come ho potuto perdere Non è giusto Non è giusto Ecco Sono stati i zingheri Sei tu il nuovo campione della Lega Pokemon Oh Sebbene sia duro ammetterlo Bene Adesso arriva zio nonno Va bene allora Il zio nonno Allora Troppo occhialuoni Quando eravamo piccoli Quando chiudiamo questo Era meglio che La prima sega Era meglio che quando tuo padre ti dice Sono figlio di te Esatto Perché sentire se il mio regno della Lega Pokemon Ce l'ha mai detto Detto dal vano Detto dal vano Poi Minchia ti do una sezza Per Così Shai ci abbiamo fatto Mentre scorrono queste Queste schermate Convenivoli Esatto Noi ricordiamo che Oltre a questa soul link Anzi specialmente per questa soul link Esatto Abbiamo preparato due speciali Uno andrà sul nostro canale E uno andrà sul canale degli Ashish Channel Esatto Ragazzi Allora quello che andrà sul nostro canale Che sarà un Non abbiamo ancora deciso il giorno Perché lo abbiamo ancora chiaramente registrato Esatto Sarà una lotta competitiva Tra Il mio team Contro il loro team Esatto Su Rubino Omega Zaffiro Alpha Quindi vuol dire che sarà una Wifi Battle Diciamo Esatto E le squadre saranno esattamente queste qua Waf 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 Con chi taccia dentro Perché a questo punto Facciamo così La squadra che ha portato la Lega Sì 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 Ma perché è un tributo Esatto Quelli che abbiamo usato nella Lega Esatto Mentre sul loro canale ve lo spiegano loro Certo Su nostro canale invece ragazzi faremo dei montaggi diciamo Dei montaggini Dei montaggini riguardo alle morti Yes E ce ne sono state ragazzi Ancora da definire Da definirsi Esatto Seguiteci su entrambi i canali Guardatela la squadra potente E qua abbiamo la Lega Madonna Subscribe Subscribe Subbacca Subbacca Comunque ragazzi Oltretutto Potremmo decidere di fare un episodio extra Oltre a questo Se i due episodi Perché ricordiamo che questo episodio è uscito sia sul nostro canale Che sul Esatto Su entrambi i canali Se La somma dei like Su entrambi gli episodi Raggiunge quota Oltre 100 Potremmo fare un episodio extra Con i leggendari Cioè catturare i leggendari che ci mancano Esatto E soprattutto ragazzi La domanda del giorno che è qua sopra Sì Che è l'ultima domanda del giorno ragazzi Ebbene sì E la domanda sarà Allora ma lo metti sto like o no? Esatto Poche Pokémon visti 149 Ma ne manca uno Ma ne mancano due I soldi? Ma da quanti cash abbiamo? Io ho stati 1 mila Un povero Ma come cosa ti hai fatto spendere? Eh ho preso le hyperbozioni Ho preso un po' di MT Ah ok Vabbè è stata una bella avventura Eh tiriamo le somme ragazzi qua In compagnia dello Shy abbiamo Riso Abbiamo pianto Abbiamo sofferto Abbiamo gioito Vabbè Gioito Sofferto Abbiamo visto la grande ficca foca La ficca foca Anzi prendiamola al volo Torno subito E soprattutto la grande Ragazzi c'è anche la master ball sprecata per il dodrio La master ball mutata nel cesso Madonna veramente Però è un dodrio assicurato Allora ragazzi Ma questa qua? Che assiste alla fine del giorno Dov'è il buffetto? Grande Vai Shyka Pronti? Contemplare Vai Oh yeah Oh yeah Oh Si stanno accoppiando Comunque ragazzi Allora come al solito Questa serie E' stata una fatica E' stata una fatica Registrarla ragazzi Quindi supportatela veramente tanto Con i laiconi Ma è un fuoco E' un fuoco E' un fuoco E' un dildo Quindi ragazzi belli E' stata Un'avventura grandiosa Graviosa Si è fatto male dall'emozione Volevamo fare i moments così Esatto Ringraziamo Shy E ringrazio gli Ashish Per Perché è stato un degno Compagno di avventura Esatto Grazie Shy E con questa fine Grazie a voi Ci vedremo il canale Ciao raga Chiudiamo quello di Shy Perché risparmiamo Chiudiamo il canale di Shy Esatto No ragazzi Seriamente Noi ci salutiamo qua E forse ci rivediamo In una prossima Solo link Non si sa Vedremo Prossimamente Chi lo sa Hai 100 like Solo sul nostro video Cosa? Cosa? Il daddy tira un bestemmione in diretta No per favore Ma cos'è? Per favore non bestemmione Allora Vabbè ragazzi Tanto su come mi scelgo sul nostro Chiudiamo l'episodio qua ragazzi Ciao ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Bene ragazzi Ciao 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 Ciao